Io ti amo Ecco figlio La luce della conoscenza Padre, e adesso cosa devo fare? Non abbiamo scelto noi di vivere Voi, padri, avete scelto per noi Forse il vostro esistere coincide con la nostra sconfitta Se avessi potuto scegliere io Io non andiamo più Padri che hanno mangiato Diretta espressione dell'egoismo umano verso i figli, propri Padri che hanno subito Sei sicuro di fare il bene di tuo figlio non ribellandoti Deporre le armi per sopravvivere Integrato in questo sistema che contesti Che odi, ti nobilita Padre, io cosa devo fare adesso? Cosa fare per consegnare una speranza ai nostri figli? Cos'è il futuro? Nel futuro, come nel passato L'unica vera e impossibile condizione tra gli uomini È la convivenza Dissacrare il padre è di sinistra Prenderlo in giro di destra Ma il padre è sempre su Tra il passato e il futuro L'uomo Spirito e materia La più intollerabile delle contraddizioni Padre, cosa devo fare adesso io? Perché hai smesso di combattere? Santo Padre Adesso io cosa devo fare? Adesso io cosa devo fare adesso io? La più intollerabile delle contraddizioni Adesso io cosa devo fare adesso io? Per quanto riguarda le persone non ribelliate? Grazie a tutti. Io ti amo. Io ti amo. Io ti amo. Io ti amo.